abbiamo finito, faccio vedere che cosa è costruito ragazzi, ma questa è una cosa estrema piano piano, fermo qua, fermo qua, vediamo guardiamo, ragazzi, notiamo gli sticker, qui ci sono il pilota che è dentro abbiamo pure qua, non è che escono così, l'abbiamo attaccato di noi service, la scritta e poi guardate quanti pezzettini, si vedono i faretti la targa, vedete lo sticker, guardate che ruote poi vediamo pure qua tutte le luci lucette e il braccio si alza, vediamo l'automobile ragazzi, ma guardate che dettagli gli sportelli si aprono fai vedere come riesce a far uscire sto metto dalla macchina vediamo come si esce dal tetto ragazzi, i pupazzetti lego originali, guardate qua un attimino guardate un attimino qua lego city, numero di serie se lo volete comprare poi vi metto il link in descrizione è 60018 davvero una cosa estrema la macchina è davvero molto curata guardate qua i dettagli guardate come si crea proprio a forza dei pezzettini piccoli questi ingegneri della lego creano dei piccoli capolavori perché veramente a forza dei pezzettini piccoli però proprio si vede sto modello è incredibile col braccetto vediamo il braccetto, guardate infatti questo è anche un po' Technics perché questo è un braccetto Technics la cosa che ruota qua è una cosa Technics e non è lego classic, capito? guardate va subito sotto anche per gravità Alessandro continua anche qua Ale, togli un po' anche qualcosa che esce esce e esce il pupazzo ecco il pupazzetto il pupazzetto vediamo un attimino la qualità vedete? eh ragazzi il lego e il lego non c'è niente da fare noi abbiamo pure quelli cinesini qualche pupazzettino di questi qua per far numero ma alla fine il lego e il lego sono fatti per essere regalati ai figli vero Alessandro che lo regalerà a tuo figlio questo qua? quando sarà piccolo un pochettino così a 5 anni e poi dopo gliele passi a tutti i figli no poi all'altro poi all'altro poi perché il lego è per sempre ragazzi il lego è per sempre Alessandro rimettemi un po' il tetto rimettemi il tetto te lo rimetto io questa era un po' duretta l'unica cosa era un po' tostina l'ho metto il tetto benissimo qui si sono avanzati si vede il zio Maurizio ci domanda dice si sono avanzati si ci mettono sempre qualche pezzettino in più di questi piccoli in maniera tale che uno poi non ci rimane male perfetto ragazzi guardate che meraviglia e adesso allora andiamo a mettere la nostra città Alessandro farci vedere la macchinetta mettere sopra vai per costruire vai per costruire vai per vedere la macchina per cercare sulla strada la donna sta strada comincia a essere trafficata è come manata una l'ora di punta è diventata sta strada è come manata una l'ora di punta allora ragazzi guardate qui ci mettiamo l'indifferenziata qui ci mettiamo il legno qui quelli piccoli qui quelli da due qui erode il ram qui quelli l'allunghi qui le basette praticamente abbiamo costruito una specie di scarica differenziata quello è il tetto e poi le macchine girano qua e al centro ci facciamo gli scenari set del cinema ogni volta siamo pieni sai per costruire Alessandro vorrebbe già ricomprabili ma ancora da aver montato qui sai quante figure c'erano da fare? un bel garage distribuito la benzina ci costruisce insieme a Maurizio un bel distributore la discarica l'avevamo già fatta fai qua dai quasi tutti quelli così tutti quelli dove? vai a vedere verdi? quelli verdi dai qui se vuole va? no no eh no quello che arriva così qui tu andiamo dai sì dai passami e poi le puoi fare pure metà metà tanto che hai quelli più sottili qua qui fai il primo strato più sottili sì sì se vuoi se ti fermo la finestra ah che ce l'hai? se ti fermo la finestra dai dai basta sì ma vai 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 come vedi Alessandro forza non ho trovato uno sì maurizio sì maurizio sono morito ecco lì là mi ha trovato uno e vai veloce 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 di così potete andare avanti e cerca cerca prova vai Alessandro se non ricerchi guarda non ti trovo io vai Alessandro anche le verdi scuri sì anche le verdi scuri dai o venti solamente le verdi no anche le verdi scuri guarda io cannibalizzo questo da qui guarda 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 vediamo un po' di versità la discarica lì stai tu ce l'hai lì ce l'hai a due passi e vi cerca lì guardate come costruisce guardate che velocità e li stiamo utilizzando pure questi qua la voglio vanno benissimo continua Alessandro dammeli a me quelle che ha trovato Alessandro dai dammeli no 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 le sto prendendo tante dai che piani verdi io voglio andare in barizzuno da qui finestre tutte le finestre il più possibile adesso finestra che sa le finestre che sa le finestre guarda 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 che sa si hanno già messe una sta lì una sta lì cioè una finestra una porta quella finestra che glielo puoi dare no ma lì non l'ho fatta come l'ho no non l'ho fatta no adesso si ha la finestra dai dai pure quella la finestra dammeli 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 vieni giocamento il cervello eh vetro trovalo guarda ha discaricato il vetro è differenziata sta lì Alessandro ha discaricato il vetro adesso tutti quelli così dai di tutti i colori no tutti i colori blu blu di tutti i colori no blu e dai che è blu 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 e zorrino dai Alessandro guardate ragazzi come ho visto sta costruendo con le finestre questa è troppo alta la finestra la finestra più bassa guarda guarda una più alta e una più bassa guardate dai Alessandro non li mette tutti in mano tagliele qua scaricali qua allora le scarico bravo no no scarica un po' bobotto è meglio ah è verde ha visto dice che c'erano invece ci sono scartano la carta scartano la carta questo lo mettiamo in zona tetto questo per qualche poliziotto lo mettiamo nella discarica delle armi qua qualche poliziotto dopo guardate ragazzi come prosegue velocissima ora questa casa adesso quelli a due quelli a due così quelli a due così qua sono quelli o anche gli altri quelli a due quelli a due sono a due si a due e quelli a quattro eh butta qui te li sa che colore hai trovato bravo che quelli a quattro così eh come non c'era anche degli altri colori che mi hai detto tu questo qui è un blu questo qui non è nero è un blu va bene dallo dallo a loro dallo a Maurizio ecco già vanno bene così che i grossi si si vanno bene dallo dallo qualche cosa ci fiamo vogliamo vedere bellissima dai bellissima oh come ho detto però questo qui ti fa la tantella mh so che è tre giallo 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 1 a 4 eccolo oh ho trovato un giallo estremo qua arancione arancione giallo estremo io ti vado anche adesso arancione veloce arancione no 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 arancione è un po' più veloce ecco lì arancione ecco lì sì guarda che gialletto io siamo a due piani mica che fanno ci fanno la rampa mica fanno una cosetta così e basta un po' più veloce e se fosse un po' più veloce è un po' più veloce a 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 ecco l'altro a 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 forse c'entra pure quella forse 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 che ti faccio faccio guarda c'entra c'entra dai dai a quattro forse eccoli va bene pure due a quello così guarda si eccoli qui io ho trovato l'altro ecco l'altro ma lì c'è la in amarela vai a giocarla dentro questa discarica l'indifferenziata qui c'è è uguale salvolo indifferenziato questo fanno una circa di là guarda che tu hai sacchettino di roba eccoli questi così adesso guarda tutti quelli così in tutti i colori in tutti i colori in tutti i colori e quelli stanno qui già amori già c'è la raccolta differenziata eccoli c'erano anche questi guarda guarda eccoli anche questi c'hai guarda qui ce li hai rotto eccoli guarda quanti ci restano qui invece seppure quei c'hai vai si maurì veloce c'erano anche questi qui cambiamo porta e finestre porta e finestre eccole qua io trovo io prendo anche questi qui le prendo no non li hai in mano e dai fai un casino a prenderli in mano no e quella fai solo casino a prenderli tutti i tipi dei mattuccini le lasciate qua tutte le finestre voi guarda qui c'è una finestra non li volete quelli le finestre le finestre le finestre le finestre ecco 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 io sto trovando le finestre papà sta a perdere io papà con le finestre io papà con le finestre ah le finestre sta a vincere tu non ci stanno a perdere le finestre quanti che ti stanno a perdere le finestre ecco ecco qui papà prendi anche da qui le finestre queste qui davvero cosa bello vedere queste qui oh si vuole adesso puoi fare un acquario gigante papà anzi guarda zivoli guarda cosa l'ha preso guarda quanti non ho presi metti li qua beh lasciali qua in una zona che non li buttai in mezzo fai solo un casino non li buttai da lì e li buttai in mezzo zivoli lasciali qua alessai fai solo un casino a piarli da una parte e lanciarli in mezzo vai qui sono tutti divisi lasciali in questa zona e se dimostri che sto all'acquario dai l'acquario perfetto zivoli guarda quante finestre d'ho preso dietro delle finestre sono brava si guarda eccezionale eccezionale guarda che non avevo anche il tempo a dire che scrende e gli altri si pieghe con il trasparente di te? io sono tanti Passo, il rosso è l'ultimo, trasparente. Tagli quelli trasparenti. Perchè sto cercando il trasparente? Guarda, 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 guarda. Non lo dovi fare, non lo dovi fare. Oh, ti vuole acqua. Te le metti tutte le fatte qui. Rossi ti servono? anche da uno ci vuole anche da uno si ci vuole anche da uno si 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 stavo andando a prenderlo no no nessun cazzotto ci ha un cazzotto fa la porta per la macchina è una macchina che ci aggiunge lo può pure modificare l'alzi l'abbassi si 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 sanno quelle porte eh certo quella era una porta della discarica di quale discarica quella è tutta discarica quella è indifferenziata e quella è differenziata qui c'è il cazzone qui qui l'arancione il cazzone che sta arrivando si si vabbè no si un po' un po' si ma la dove ha messo sta doppia porta margarina finita lì la casa no no è qui tra qui riuso adesso qui ci fa un altro perché ci ha messo in due parti perché ci ha messo in due parti per costruire un muro più veloce poi l'ha messo nel sabre a destra se non si morì così no se non si morì lo sai di quei pattuggi che ho tolto io no eh no non lo sai non lo sai non lo sai non lo sai è volato io ma mi si è stroncato va bene ragazzi concludiamo qua il video guarda 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 che bello il frontale bella sta casetta veramente qui c'è pure tutto il garage dentro guarda se ne vede all'altra parte che spettacolo alessandro saluta ciao